Sì, è verrà, è una lastima, ma credo che l'equipo ha giocato con orgoglio e tiene che stare contento di esso. Il football è sì, non abbiamo tenuto un pochino di sorte noi con la traversa. Teniamo che ponere nel campo sempre questo orgoglio, questa qualità, questo spirito, lo spero per sabato e per la Liga, perché teniamo che jugare il prossimo anno in Europa, è molto bonito. A questi livelli tiene che avere un po' di sorte per cambiare un partito, ma l'equipo ha giocato con ordine, con equilibrio, con animo, non era facile, sto contento di questo, credo che l'affezionato sta contento perché ho oltre a cantare fino al finale. Un tosse si può giocare ancora nella Champions. È vero, io credo che quando si gioca contro questo rival non puoi perdere l'equilibrio, non puoi giocare in maniera non logica, perché ti marcano, ti marcano, sì, l'equipo ha giocato con intelligenza. Ha stato un poco preoccupato, dopo cinque minuti, non so che il mercato ha tomato una targhetta, ma lo è lo stesso John Zee, ma è terminato, ripeto, con intelligenza. È vero, l'hiamo salutato al finale, credo che l'affezionato sta intendendo lo spirito della difficoltà del partito, quindi sono contento di questo.